Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale Oggi vi voglio presentare il primo, alla fin fine sì, il primo board game digitale, digitalizzato che porto sul canale A cura della Cranio Creations, un gioco comunque già uscito da tempo e ormai molto famoso nelle sue meccaniche Gioco in questione è Lorenzo il Magnifico Lorenzo il Magnifico è un gioco da 2 a 4 giocatori della durata media di, si va dai 60 ai 90 minuti È un gioco semplice da capire come regole ma complesso, alla fin fine da padroneggiare Se volete diventare veramente dei giocatori molto forti ed esperti in questo gioco Che poi alla fin fine da 2 a 4 giocatori è un gioco di pura strategia Ed è ambientato nella Firenze rinascimentale dove voi farete parte del leader, del patrono, di una delle famiglie Che gareggeranno per avere il favore della chiesa e il favore della città Nel gioco bisogna guadagnare più punti vittoria possibili e poi come era in quell'epoca lì Dover andare a riferire alla chiesa al fine di ogni era evitando la scomunica diretta Quindi vincerà alla fine della partita la famiglia che avrà più punti vittoria E per fare questo, per raggiungere questo obiettivo e guadagnare punti vittoria avrà diverse strade da seguire Quella che vi faccio vedere ora ragazzi è assolutamente, ma nemmeno una beta È proprio una demo della versione Kickstarter Tra l'altro, ricordi, tanto ringrazio ovviamente Cranio Creations per averci dato anche questa possibilità E al solito è veramente un onore collaborare con voi e lo dirò sempre in ogni video Ma la cosa importante è che il Kickstarter, se non erro, dovrebbe già essere finito Comunque sempre ci sono tutti quanti i dati perché una volta che il gioco sarà uscito Prima di tutto le prime ondate verranno inviate i baker a chi ha supportato il progetto Però poi sarà un gioco che magari uscirà anche su Steam o su altre piattaforme Perché c'è per Mac, per Windows e altre piattaforme E avrete la possibilità di acquistarlo Quindi comunque voi vi lascio in descrizione il link alla pagina del Kickstarter e del progetto O poi comunque se no potete andare sempre il link in descrizione sulla pagina di Cranio Creations Direttamente per avere più informazioni Comunque al momento nella demo è possibile fare una partita in due giocatori Tre giocatori, quattro giocatori e ovviamente essendo, ripeto, una beta Il giocatore, ci potrà essere soltanto un giocatore, un player, come vedete qui, human E tutte le altre saranno intelligenze artificiali impostate su hard Che devo dire, devo dire, giocano anche abbastanza agguerriti l'intelligenza artificiale Per quanto forse il gioco è ancora un pochino schematico e rudimentale Mi sembra fatta particolarmente bene Comunque scegliamo ovviamente una partita a due e facciamo Star Game Questa che vedete è la plancia di gioco Fatta tutta quanta in 3D Tra l'altro bellina perché come muove il mouse in alto e in basso si muove la visuale Quindi vabbè, per tenere sotto controllo tutto perché ovviamente stando fermo sarebbe un pochino più problematico E vedete che il gioco una volta che inizierà la partita vi farà già un setting di partenza E vi darà qui in basso a sinistra i vostri personaggi Vi ricordo che ogni personaggio ha affidato un dado Che è un dado praticamente forza di quel personaggio lì che servirà per svolgere vari compiti Comunque questa è la schermata principale del gioco e qua giù in basso a destra avete le risorse Che sono l'oro, vedete, qui in fondo, qua su in cima scusate Al centro la pietra E qua giù in fondo la legna Quindi queste qui sono le risorse che potrete spendere nel gioco Poi ci sono invece risorse qua giù che vedete in fondo che sono sempre l'oro E questi viola sono i lavoratori, gli alleati che potete avere Mentre nella schermata qui accanto Quindi alla sinistra di quella delle risorse Avete i vostri livelli, che ovviamente al momento è impostato a zero I vostri valori militari Perché ricordiamo che questo è anche un gioco dove ci deve essere una presenza militare Perché in un'ambientazione rinascimentale come quella di Firenze Insomma, ogni famiglia che si rispetti aveva un seguito di armigeri a difenderla E poi il valore della chiesa, quindi il valore sacro Perché in questo gioco si dovrà, come vi ho detto Al fine di ognuna di queste quattro ere di sviluppo Andare a riferire, perché era così all'epoca Quando c'erano degli sviluppi nella città Soprattutto nel Gran Ducato e nella Firenze dell'epoca Bisognava andare a riferire alla chiesa E bisognerà stare attenti a stare sempre dietro ai dettami della chiesa O comunque avere una valutazione positiva da parte del clero Per non rischiare la scomunica Che la scomunica ovviamente toglierà punti Un personaggio scomunicato non contribuirà alla fin fine ai punti vittoria per vincere la partita Quindi dovete fare qualsiasi cosa per accomunarvi la chiesa e portarla dalla vostra parte Essendo questa una partita a due Vedete che ci sono soltanto due standardi delle famiglie La rossa che è la mia La verde che è lo standard della famiglia usata dal computer Dall'intelligenza artificiale E come vedete qui c'è tutta la lista dei personaggi Che poi è la stessa che trovate qua giù in fondo Quindi l'1 Il 2 arancione Il 3 nero E lo 0 Perché praticamente i familiari di Tra molte virgolette di secondo rango Conteranno 0 Al fine delle prove Che ora vi farò vedere Ve l'ho detto il gioco è facile Per quanto regolamento è diviso in due Ha una versione facile E una versione con regole aggiuntive Per giocatori che hanno già fatto due o tre partite Un pochino più navigati E vedrete che ogni personaggio avrà sempre un valore e un colore Come vedete qui 2 arancione 3 nero 1 bianco E ci saranno Ve l'ho detto Gli alleati della famiglia O i familiari di secondo rango Di rango un pochino più basso Che avranno un valore di 0 Ma che potranno utilizzare i braccianti E gli alleati Questi qui viola E ognuno di questi Vi darà un risultato di più 1 Alle prove Il gioco è molto facile È molto veloce E vi assicuro Non vi fate ingannare Perché uno potrebbe dire Vabbè ma non è un gioco prettamente di guerra Non è un gioco prettamente di alleanze Non è un Game of Thrones Sicuramente È un'ambientazione reale Di Lorenzo il Magnifico In età fiorentina rinascimentale Però ragazzi È una figata È un gioco di attenzione Dettagli E di strategia Pauroso È fatto veramente bene È molto interessante Qui a destra Avete invece La vera e propria Plancia di gioco Che sono tutte le azioni Che potrete fare Per guadagnare punti vittoria E è divisa In varie colonne Di diversi colori La prima Dei territori La seconda Dei personaggi illustri La terza Degli edifici E la quarta Delle imprese E in alto A sinistra La chiesa Quindi il vero e proprio Potere del clero Con i simboli Come vedete sopra Delle varie ere E le carte Attaccate sopra Delle scomuniche Quindi potrete Semplicemente Andare a cliccare Facilmente così E leggere Insomma Quali saranno Le cose Che ci sono scritte Per i malus Che vi daranno Le scomuniche Ripeto La scomunica È veramente La chimera Di questo gioco E dei personaggi Delle casate Di questo gioco Delle famiglie nobili Rinascimentali Dovrete assolutamente Evitarle Perché prendere Una scomunica Un personaggio Vuol dire Insomma Guadagnare Meno punti vittoria Alla fine Devo dire che Per quanto Forse si vede ancora C'è scritto infatti In altro Che ancora una demo E tutto È fatto veramente bene È colorato bene Ed è grazioso Forse Se posso dare un piccolo consiglio L'avrei un pochino Animato leggermente di più Magari qualche suono Ci saranno Magari in fondo Perché sto provando una demo Però qualche suono ambientale Magari carrozze Cavalli Il vento Un fiume L'acqua Che ne so Semplicemente anche le nuvole Che si muovono dietro Però vabbè Già così Secondo me è molto carino Mi piacerebbe provarlo Con un altro giocatore Invece che col computer Che tra l'altro Senza artificiale È fatta benissimo È un casino eh È come vince a scacchi col computer È fatto bene Come vi dicevo Inizialmente Il gioco è diviso In varie ere E ogni era È divisa in turni Alla fin fine Ciascun personaggio Che avete qui Nella vostra famiglia Potrà fare Un'azione Per ogni turno E a fine di quell'azione Dovrete dare Il passamano Al giocatore successivo In questo caso Vi faccio vedere Qui come vi ho detto Sono i territori I personaggi illustri E tutto Io potrei andare a cliccare Su questo E dice Legname Ok Vi dice Qui vi da una descrizione Di quello che c'è da fare C'è un dado Con un valore Che vedete No Qui chiede un valore Di 1 Quaggiù in fondo Quaggiù sotto Quindi questo qui È il valore Che serve La forza che serve Al lavoratore Per prendere Insomma Questo bonus E qua giù In basso Sono le risorse Che voi avete Al momento Quindi Il denaro Le rocce E legname Quindi Questo ha un valore Di 1 La regola particolare Non si spende E quindi Io posso andare avanti Nel turno Faccio Vai avanti Finisci il turno Mossa del computer Del giocatore avversario Che ovviamente Fa velocissimo E E si va Successivamente Con il secondo personaggio E la seconda azione Come vedete Adesso In fondo Quaggiù Alle 4 colonne C'è un bannerino Giallo Ok Con un valore E una monetina Perché vuol dire Che ogni volta Visto che io mi sono messo qui Come avete visto Ogni volta Che dovrà essere Sbloccato Un nuovo territorio Un nuovo personaggio illustre Edifici O imprese Memorabili Io dovrò spendere Anche una somma Quindi il primo che arriva Si prende Insomma Quello che c'è Però tutti gli altri Successivamente Dovranno spendere Anche delle monete D'oro Appunto Per poter Sbloccare Queste cose All'interno Ovviamente Le azioni Che si possono fare Nella Firenze Rinascimentale Non sono soltanto Queste qua Ce ne sono anche altre Ci sono ad esempio Le attivazioni Che qui mi dice Uguale Sempre No Un personaggio Con un valore Un valore di 1 Prendo queste risorse Quindi 1, 1 e 1 Di ciascun tipo Prendo anche Però un bracciante Vedete Un lavoratore O se no Spendendo 2 Prendo questa risorsa Che invece c'è qui Qui al solito Cosa dovete fare Dovete cliccare Sulla risorsa Scegliere il personaggio E mandarlo Scegliere una di queste due Quindi potrei dire Lui che ha un valore Di 2 Potrei prenderlo Metterlo Qui Il criterio è stato Soddisfatto Come vedete Ok E io faccio Scegli E in basso Quaggiù Ci ridà le risorse Sempre come prima Potrei anche fare un'altra cosa Vado avanti col turno Questa volta Vado in questa schermata Quaggiù E vedete Ora Eccolo qua Il computer L'altra famiglia Con lo standardo verde Ha scelto di prendere Invece le monete d'oro Perché si vede Che gli servivano E qui in alto Invece Ci sono i privilegi Quindi cliccando Quassù Qui Nei privilegi Sono le vere e proprie risorse Che poi andate a prendere A parte i territori E queste cose qua Però io al momento Non ho braccianti Quindi lui mi dice Quale vuoi scegliere Voi vedete Ci potete cliccare Vi dà una spunta Ok E io dico Vorrei scegliere questa qui Al solito Dovrete scegliere Sempre un personaggio Che abbia Un valore giusto Quindi un valore Di dado E un colore Per prendervi questa risorsa Ci affido Mi chiede uno Uno non ce l'ho Quindi gli affido Un personaggio Da tre E poi scelgo La risorsa Quindi voglio prendere Uno di oro E due di braccianti Do l'ok E a questo punto qui Mi sono preso Uno di oro E i braccianti Che mi servivano Per fare altre azioni Queste qui sono bene o male Le azioni che potete svolgere Nel corso di un turno Appunto Di una partita A questo punto Ho finito tutti quanti Personaggi Ridò Fine turno Mi rimane soltanto Quello che vi dicevo Quaggiù Che vediamo Cosa li possiamo far fare Perché effettivamente Ha un valore di zero Potrei mandare Anche lui A prendere un altro Privilegio Potrei dire Ok Clicchiamo Vediamo cosa c'è Mi potrebbero servire Due scudi Che alla fine Sono la parte Dell'esercito Delle truppe Quindi potrei dire Ok Clicco su di lui Vedete che automaticamente Ha un valore di zero Non basterebbe Per l'uno richiesto Però ci mette anche Un bracciante Un aiuto Un supporto Quindi È stato soddisfatto Scelgo questo Clicco E come vedete Ora Oltre aver preso l'oro Ho anche un valore Di due Delle truppe E do Fine turno A questo punto Il turno finisce Inizia Direttamente Quassù Non si legge ancora Molto bene Penso che le spanderanno Inizia la fase successiva Il turno successivo Per poi arrivare All'era successiva E io reho Tutti i miei I quattro personaggi Sbloccati Che sono qua giù In fondo E sia qua giù In alta sinistra C'è un problema Ho fatto già un errore Giocando Perché come avete visto Ho preso Tanto oro Perché insomma Otto è un valore Discretamente alto Come legno C'è no Il giusto Secondo me Medio alto Forse Medio basso Un pochino di pietra Però si può sempre andare avanti Perché il gioco Si sviluppa in sei turni Alla fine del terzo turno Passando per le barriere Finirà la partita E si decreterà Qual è la famiglia Nobile Vincitore Però Io per quanto Ho preso due Dall'esercito Vi ricordate prima Qua su in cima Dai privilegi Non ho preso fede Quindi ho un valore di fede Di zero Insomma Andando a riferire queste cose Alla chiesa Non ne sarà particolarmente contenta Praticamente ho fatto vedere Che io sono devoto Zero Praticamente spaccato Anzi meno uno Alla chiesa E quindi Successivamente dovrò andare a prendere Un po' di questi cubetti rossi Per aumentare il mio valore Di fede appunto Con la chiesa Il gioco ragazzi Fondamentalmente è questo È molto veloce È un gioco immediato L'avete visto C'è poco da sapere Ma c'è tanto da fare Alla fin fine Perché ci sono vari modi Di guadagnare punti Punti che vi porteranno A vincere la partita Come vi farò vedere adesso Ora ovviamente ragazzi Quello che vi faccio vedere È il regolamento Del gioco da tavolo Della variante Board game Sicuramente in questo Digitalizzato Ci sarà anche un tutorial All'inizio Normale Non vi preoccupate Come tutti i giochi Che escono per il computer Comunque alla fine Del sesto turno C'è un conteggio Di punti E si andrà a vedere I territori conquistati 1, 4, 10, 20 punti Vittoria Per 3, 4, 5, 6 Carte territorio Insomma I territori che avete visto In quella colonna In quella colonna Che vi ho fatto vedere All'inizio nel gioco Quindi Il punteggio andrà Sui territori conquistati Personaggi storici Influenzati Le imprese compiute La forza militare E le risorse accumulate Perché anche la famiglia Che avrà più risorse accumulate Potrà vincere la partita E questo ragazzi Fondamentalmente È Lorenzo il Magnifico In conclusione ragazzi Cos'è Lorenzo il Magnifico È un gioco di splendori È un gioco di Che cerca di mettere Anzi lo fa particolarmente bene In competizione I giocatori È un gioco di risorse È un gioco di movimenti Strategici a livello Anche di Come vi ho detto Prendere la fede Con la chiesa Con il clero Oppure farsi tante risorse Oppure semplicemente Avere una buona parte Di esercito Che ti difende È una sfida Fra famiglie In età rinascimentale Nella Firenze Dell'epoca Secondo me È un bel gioco Per tutti coloro Che amano le sfide Che amano ovviamente I giochi Dove vengono messi Uno contro l'altro I giocatori Però alla fin fine È anche un Non è tanto il classico gioco Dove si mira A sabotarci Si mira A rubarci No Qui diciamo Che è un gioco Più che altro Come alla fin fine Non è tanto di sabotazione Ma è chi gioca Meglio Come potrebbe essere Una dama O uno scacchi Quindi Non devi andare Tanto a minare O a sabotare I piani Del tuo avversario Quanto devi giocare Meglio di lui Devi fare mosse Più intelligenti Devi andare a prenderti Per primo le risorse Essere il primo Nelle grazie della chiesa E cose del genere Quindi un gioco Dove devi essere bravo A muoverti E fare le giuste mosse Nel minor tempo possibile E soprattutto Nella maniera migliore possibile Quindi un gioco Che mi sento Riconsigliare Praticamente A tutti Però soprattutto A quel tipo di giocatori Che adorano Un po' Come i coloni di Catan Vi ricordate Questi giochi qua Di micro Gestione Delle proprie risorse Dove alla fin fine Si dovrà tenere Molto E Veramente Agli adoratori Della matematica Perché ci saranno Da tenere conto Tante cose Per il punteggio finale Ed è un gioco Secondo me Che può valere la pena Di supportare E di seguire Io spero che Lo finiranno Quanto prima Penso Ripeto che il kickstarter Sia finito Ma voi comunque Cliccate nel link In descrizione E andate a vedere Voi stessi Comunque tanto Lo invieranno ai baker E poi quando il gioco Uscirà Lo potete comprare Anche voi Ancora una volta Grazie di cuore Alla Cranio Creations E' sempre veramente Un onore collaborare Con voi Insomma fatemi sapere Cosa ne pensate Nei commenti Trovate tutti quanti Link ai nostri social E ovviamente Anche ai nostri sponsor In questo caso Cranio Creations Per l'edizione digitale Di Lorenzo il Magnifico O perché no Se vorrete acquistare Anche quella Scatolata La controparte appunto Gioco da tavolo Board game Fatemi sapere Cosa ne pensate Con un commento Ragazzi Io ve l'ho fatto vedere Un po' così Come tutti i miei video Cosa ne penso Vi ho fatto vedere Leggermente come funziona Poi ovviamente Se vi volete documentare Tanto anche i regolamenti Si trovano facilmente Ciao ragazzi Alla prossima